L'Africa brucia e mentre l'instabilità si diffonde, l'Europa è nel caos. Ma attenzione, non è solo una crisi migratoria. Questo è il terreno di uno scontro ben più grande. Da una parte c'è l'Italia, che accusa la Francia di aver alimentato il disastro con i suoi interessi coloniali. Dall'altra, la Francia respinge le accuse, puntando il dito contro Roma per le sue politiche ambigue. E al centro del dibattito, un confronto senza esclusione di colpi tra il direttore italiano Maurizio Belpietro e il giornalista francese Jean-Michel Labarre. Chi ha ragione? E chi sta solo cercando di salvarsi la faccia? La tensione è palpabile. Belpietro accusa la Francia di essere la causa della crisi africana, mentre Labarre difende il suo paese, accusando l'Italia di ipocrisia. Ma chi dice davvero la verità? Scopriamo insieme cosa c'è dietro questo scontro epico che potrebbe riscrivere i rapporti tra Italia e Francia. Se non vuoi perderti nemmeno un dettaglio di questo dibattito infuocato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui trovi le verità che altrove ti nascondono. Partiamo dall'inizio. In una recente intervista Maurizio Belpietro non ha usato mezzi termini. La Francia ha fallito in Africa. Hanno sfruttato risorse, destabilizzato governi e adesso vogliono lavarci le mani del loro sporco lavoro. Le sue parole sono arrivate come una bomba, scatenando la reazione furiosa di Jean-Michel Labarre. Il giornalista francese, in diretta tv, ha risposto con altrettanta durezza. È facile accusare la Francia, ma vogliamo parlare di come l'Italia abbia sostenuto regimi autoritari in Africa per decenni? Labarre non si ferma qui. Con un tono carico di ironia, sottolinea che l'Italia, nonostante tutte le critiche, continua a essere il paese che accoglie meno migranti in proporzione rispetto alla Francia. Belpietro non ci sta e ribatte. È certo, perché voi li bloccate al confine con manganelli e lacrimogeni. Siete bravi solo a chiudere le frontiere e poi fare la morale. Chi ha ragione? È la Francia che sta pagando il prezzo delle sue politiche coloniali o l'Italia che sta scaricando la colpa per i suoi insuccessi? Scrivetelo nei commenti e diteci la vostra. Ma lo scontro non si limita a semplici accuse. Quando Belpietro tira in ballo il ritiro delle truppe francesi dal Mali e dal Niger, definendolo una fuga disonorevole che ha lasciato spazio alla Russia, Labarre esplode. È ridicolo. Non possiamo continuare a parlare della colonizzazione come se fosse colpa di oggi. Sono passati 120 anni. È ora che vi assumiate le vostre responsabilità. Il tono si alza e il confronto si trasforma in una vera e propria battaglia verbale. Se pensate che le parole di Belpietro vadano sostenute, lasciate un like. Se invece trovate che Labarre abbia ragione, fatecelo sapere nei commenti. La verità merita di essere discussa e insieme possiamo fare chiarezza. Questo non è solo uno scontro tra due giornalisti. È il riflesso delle divisioni profonde che separano Italia e Francia. Il caos africano sta rivelando tutte le fragilità dell'Europa. E mentre politici e giornalisti si rimbalzano le responsabilità, la domanda resta. Chi sta davvero vincendo in questo gioco pericoloso?